Se avete bisogno di materiali, armi, trappole per Fortnite e salvamondo c'è MMOGO in descrizione. Col codice KINU TV avrete altri 5% di sconto. Forse... Stai a ritagliare. Oh no. Oh no. Allora, che vedeva, 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 che vedeva. Scusa, è finita, vedeva. No. No, arriviamo al prossimo Battle Royale. È vero. Bella raga, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, visto che è il giorno di Natale, ne approfitto per farvi gli auguri a tutti quanti. Tutti quelli che mi seguono, raga, auguri di buon Natale a tutti voi. Sia che credete nel Natale, sia che non ci credete. In caso non ci credete, buone feste e basta. Oggi ne approfitto, non porto un video, né un tutorial, né niente di particolare. Voglio solo scambiare due parole con voi e farvi una piccola richiesta. Allora, raga, io ho in mente un progetto, però ho davvero, davvero bisogno del vostro aiuto a questo giro. Ho davvero bisogno dell'aiuto di tutti voi, tutti quanti. In pratica, cosa vorrei fare? Vorrei realizzare un video speciale, appunto, per i miei... Quando li raggiungerò i 10.000 iscritti, ma probabilmente lo pubblicherò sicuramente un po' prima. O un po' dopo, vediamo. Dipende tutto anche da voi. Io mi sto portando avanti già un bel po' prima, perché secondo me è un progetto che mi richiederà un po' di tempo per essere realizzato. Sia da me, sia da voi. Adesso vi spiegherò subito di cosa sto parlando. Intanto vi chiedo scusa se sono stato già straconfusionale appena sono partito con questo video. Non vi preoccupate, adesso vi spiegherò bene. Vorrei realizzare, raga, un video apposta in cui noi utenti di Salva al Mondo mostriamo, appunto, cosa riusciamo a costruire. Le nostre sculture, le nostre opere d'arte, anche i tunnel più carini, gli amplificatori coperti meglio, gli amplificatori più estetici. Raga, qualsiasi cosa avete costruito nella vostra base e pensate di voler condividere, di volerla far vedere a qualcuno. Questo è il momento giusto, perché io voglio realizzare un montaggio di tanti nostri progetti, compresi i miei, ci metterò, e compresi i vostri. Guardate per esempio, vi faccio vedere, vi do una piccola idea. Questo è il mio scheletro che ho costruito, è in fase di costruzione. Ovviamente da qui adesso io lo sto spostando lì dietro perché vorrei, lo vorrei che si vede meglio, no? Qui mi viene un po' difficile guardarlo tutto intero. Lo sto per spostare lì indietro, in modo che posso anche farci un video bello carino, fargli un bello screen, ma non è questo il problema. Voi cosa dovrete fare sulla vostra opera d'arte? Raga, l'opera d'arte vi ricordo che potrebbe essere anche qualcosa di piccolo, non deve essere necessariamente qualcosa di enorme. Quando andrete a fare uno screen, a riprendere, a fare il video sulla vostra opera d'arte, io vi chiedo gentilmente di disattivare, come vedete, dalle impostazioni tutte le interfacce che vedete. Mettere no su ogni singolo parametro. Adesso vi faccio vedere. E su gioco impostare addirittura la visuale in prima persona, quindi visuale in prima persona, sì. Ok, noterete che è sparito tutto quanto dallo schermo. Se voi volete lasciarlo, raga, questo lo lascio a vostra decisione, potete lasciare il nome della vostra casa base in alto a sinistra. Questa è l'unica cosa che, se volete, ovviamente, se non volete potete pure toglierla. Ma, appunto, se vorrete far vedere, che ne so, i vostri amici che siete comparsi in questo video, potete benissimo lasciarla. Anzi, con il nome della casa base in alto a sinistra, secondo me, viene anche un pochino più originale. Le altre cose, raga, toglietele tutte. Tanto non ci interessano in questo video, eh. Non ci interessano le armi, le abilità, nemmeno l'eroe. È un video incentrato sulle costruzioni, appunto, su Salva al Mondo. Vediamo, raga, voglio che tirate fuori il meglio di voi. So che ci sono artisti sicuramente bravissimi che stanno aspettando questo momento forse da secoli. Io ho già un paio di amici che mi contattano, che mi dicono Oh, io ho una mega costruzione nella mia casa base, vorrei fartela vedere, vorrei che la portassi sul canale. Raga, questo è il momento giusto. Faremo un mega montaggio, sarà qualcosa di epico. E facciamo vedere anche gli utenti della Battle Royale che su Salva al Mondo ci si può sbizzarrire anche qui. Perché è così. Intanto mi fanno gli auguri di Natale in chat. Bella lag sing. Se stai guardando questo video, auguri di buon Natale a te e a tutti voi, raga. Grazie mille per tutto il supporto che mi state dando in questi giorni. Non mi sarei neanche mai aspettato di arrivare a questo punto, raga. E lo devo solamente a voi. Io cercherò di rendervi partecipi a tutti quanti il più possibile, sto già cercando di dare il meglio di me. Oggi non ho portato nessun video tutorial, ma non vi preoccupate che sono pieno di idee in testa, pieno di materiale che vorrei pubblicare. Però, però avevo bisogno di fare questa cosa prima che fosse troppo tardi. Vorrei poterlo fare entro i miei 10.000 iscritti. Adesso non so, entro quanto arriveranno probabilmente, magari lo pubblicherò anche prima. Però, l'obiettivo mio era quello, ovviamente. Io per oggi vi saluto, raga. Mi raccomando, condividete, non il video, perché non mi interessa che condividete il video, condividete l'idea. Ah, e soprattutto le mail, me la dovrete mandare all'indirizzo KinoTVOfficial, chiocceloagmail.com Trovate le mail sotto in descrizione in tutti i video. E soprattutto, mi raccomando, raga, non superate i 30 secondi, un minuto di lunghezza del video. Se no, mi viene veramente lunga scaricare, ricaricare tutto. Insomma, questo è quanto. Se avete qualche dubbio, scrivete sotto nei commenti. Se non sono stato abbastanza chiaro, spiegherò ulteriori cose in un nuovo video. E ci vediamo domani. Ciao!